E questo dovrebbe essere anche un augurio a tutti noi napoletani perché noi abbiamo delle eccellenze incredibili. Io sono un made in Naples 100-100, ricordiamoci che tutte le borse dei grandi brand internazionali, francesi, tedeschi, inglesi che siano, producono a Napoli. E questa la dice lunga su quello che è la monodopera napoletana. Per noi è fonte di grande orgoglio. Scegli Napoli è nato con un obiettivo preciso, cioè promuovere e sensibilizzare i consumatori all'acquisto di prodotti realizzati da aziende con sede legale a Napoli e nel territorio metropolitano di Napoli per coinvolgere direttamente i cittadini nelle politiche di sviluppo economico territoriale. Si aggiunge alla grande rete, alla grande famiglia di Scegli Napoli che oggi conta oltre 80 aziende, un grande gruppo napoletano che è Carpisa che porta questa iniziativa in 620 punti vendita di tutto il pianeta, addirittura negli Emirati Arabi e a Dubai. Il gruppo Carpisa si unisce al progetto Scegli Napoli, l'iniziativa nata per sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio napoletano attraverso la promozione dei prodotti realizzati dalle aziende locali. Un'etichetta con il logo Scegli Napoli sarà presente quindi su tre linee di borse per un totale di 19 prodotti. Il nostro grande e ambizioso progetto di autonomia culturale, economica, sociale e territoriale di questa città perché comprare napoletano vuol dire creare occasioni di reddito, di impiego e di lavoro, tutelare i posti di lavoro esistenti, favorirne la nascita di nuovi e porre un freno alla spirale dell'emigrazione interna. Si allargano sempre di più le aziende piccole, medie e grandi che aderiscono al nostro progetto Scegli Napoli nell'ambito dell'obiettivo politico Napoli città autonoma. Oggi un gruppo che ha il cuore, il corpo, la mente, la sede a Napoli ma è presente in tutto il mondo che è Carpisa che fa una serie di prodotti, di pelletteria con il marchio Scegli Napoli. Il modo per valorizzare ciò che è napoletano, le aziende napoletane, il lavoro napoletano, il talento napoletano, la fiscalità napoletana e la valorizzazione del nostro territorio. Questa è l'autonomia che ci piace, non quella della propaganda, delle discriminazioni e della separazione dei ricchi. È l'autonomia vera, quella che crea coesione, valorizza i territori e unisce e non divide.